Dark e i nuovi layout, sembra questo il periodo adatto e sembra che veramente in tantissimi caffettini parliamo della stessa identica cosa ma qui invece si parla di Facebook perché la scorsa settimana ha attivato anche a me, ebbene sì anche a me, la versione nuova di Facebook chi magari mi segue su Facebook appunto, su Instagram avrà già notato che ho pubblicato delle stories, delle immagini, delle screenshot di questo nuovo layout più rotondo, più diciamo quasi Twitter da un certo punto di vista e più mobile tra questi, diciamo tra la versione nuova e la versione vecchia cambiano diverse cose, soprattutto per i monitor più grandi ma compare anche la versione Dark, che è la versione diciamo che sta andando di più, soprattutto negli ultimi tempi su tutti i social, su tutte le piattaforme bene, si torna un po' indietro, si torna un po' alla barra grossa, alla barra degli indirizzi, al menu sulla sinistra, più ciccioso, più grande ai testi più grandi, quasi se avessero fatto uno studio su Facebook avessero capito finalmente che lo visitano solamente i più anziani anziani, anziani che siamo noi fondamentalmente, che siamo noi utenti dei social dico anziani, chiaramente spero di non offendere nessuno ma in maniera totalmente ironica perché effettivamente questi pulsantoni così grossi queste notifiche così importanti rappresentano una novità anche nell'approccio di layout e lo stesso Facebook che è sempre stato soprattutto all'inizio sì semplice, sì diciamo immediato ma anche raffinato da un certo punto di vista su alcune scelte di layout, su alcune scelte di trasparenza proprio della comunicazione invece ad oggi si trova proprio un passo indietro, un passo più nella velocità, più nell'uguaglianza, nell'utilizzo a tutti rispetto che a prima è la versione dark che ho provato ad utilizzarla per una giornata, bene insomma vi consiglio di provarla per capire un pochettino quello che c'è ma vi sconsiglio di utilizzarla in maniera costante, ora appena ho pubblicato il layout sul mio Facebook tutti voi mi avete commentato no che brutta, effettivamente all'inizio ero molto galvanizzato ad utilizzarla e poi effettivamente ragazzi effettivamente è proprio una pena, forse è anche vero che non siamo abituati a un Facebook così quindi anche leggere il bianco su nero o il grigio bianco colorato su nero sull'interfaccia di Facebook è un po' difficile sono molto curioso di capire come gli utenti tradizionali, quindi non è adetti ai lavori ma gli utenti più comuni sapranno utilizzare questo nuovo layout, quali preferiranno se quello bianco o quello nero, se quello tradizionale o quello dark e se ci sarà la possibilità di continuare in questa rotta, perché per il momento è in test un test che arriva dietro notifica, quindi non c'è la possibilità di accenderlo per provarlo così in maniera autonoma ma ti arriva una notifica proprio sulla tua home di Facebook e poi chiaramente puoi accettare o meno di provarla solo così si può provare, solo così si può testare ora attualmente sto lavorando, sto utilizzando appunto il Facebook in questa nuova versione e devo dire che mi sto un po' abituando a questa a Chiara anche gli spazi diventano diversi, ho visto anche che gli stessi profili danno più importanza alle informazioni anziché ai post e anche le stesse pagine hanno subito una modifica invece è discorso diverso per i gruppi che rimangono in maniera molto simile erano già più, chiamiamole così, più rotondi e più visibili almeno per questo punto di vista in ultimo i pulsanti là sopra dove c'è la home, dove c'è watch, sistema appunto video di raccolta video appunto di Facebook marketplace che non l'ha mai decollato più di tanto, c'è il vero ebay, chiamiamolo così di Facebook gruppi e poi videogiochi dove poter cliccare e avere tutti i gaming o meglio gli streaming dei gaming una sorta di twitch all'interno di Facebook quindi nulla di nuovo, di trascendentale ma un po' di innovazioni questo era il caffettino di oggi, io sono Mario Moroni e come sempre ogni giorno da lunedì al venerdì alle 7.30 siamo qui per parlare di tutto quello che ci interessa, business, social, startup e un po' di ragionamenti sulla comunicazione venitemi a trovare anche su Telegram, Mario Moroni canale ciao ragazzi